un problema ho parlato la radio ho detto io sono marco sono al seraco c'è un problema qualcuno deve salire io sono stanco non ce la faccio più perché poi gerard è salito un pezzo è andato su e non capivo più cosa faceva se voleva calare ancora non sapevo più e io ho fatto la radio ho parlato e poi ho cominciato a fare il traverso in discesa pensi a vivere non guardi l'orologio pensi a vivere che devo vivere quando qualcuno si resta a qualcuno per morto pensano che le famiglie sono a casa pensano che loro hanno a vivere in una situazione in cui si sentono che tutti conoscono che se mati si mati si mati e si facono questa decisione a questa base Gerard Macdonaldi era un uomo che mi conosco che non potrebbe fare questa decisione non aveva in lui per guardare i loro occhi e vivere a un later stage e dire che non ha fatto il suo meglio non aveva un giorno Ma nessuno vuole venire con me, ma tutti dicono che adesso stiamo in danger. Finalmente, ho iniziato a scoprire di nuovo. Si non ho l'oxigenza, non posso portarlo, perché non posso portarlo. 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 Non c'è chi è la persona che si è riuscita. Mi sono arrivato e ho visto due correnti. È 10 metri far da un corpo di un altro corpo. È un corpo di un corpo. È 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 un corpo. Grazie a tutti. Il modo di essere stupido a un'errore attenzione, a un'errore attenzione. Il Wilco, il nostro leader, è portato con un helicoptero perché è stato frattato. Il secondo helicoptero Marco ha frattato di mano molto male. Quindi non ha usato più di rinforzare la ropa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.